Buonasera e bentrovate di intorno alle 9. Questa sera parliamo di Riciclao, il mercatino dell'usato che ormai è diventata una costante della nostra città, è giunto già alla quinta edizione, lo facciamo insieme a due ospiti che vado subito a presentare, Tommaso Tasselli, volontario di Mato Grosso, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Sara Breschi, anche lei volontaria di Mato Grosso. Buonasera. Allora, Tasselli, dicevamo, quinta edizione di Riciclao, il mercatino dell'usato, ormai conosciuto in tutta la città, ma anche da fuori, che è partito proprio oggi e che andrà avanti fino a Pasquetta. Cosa succederà ad Officina Giovani? Perché è lì che si svolge. Certo, Officina Giovani è invasa da volontari, più di 150 volontari, è invasa dalla cittadinanza di Prato e può venire sia a portare i materiali che ha in casa e che non gli servono più, che siano vestiti, libri, oggetti, biciclette, e può venire al mercatino a comprare, quindi se uno ha una passione per un giocattolo, qualcosa di antico, collezionista di libri particolari o biciclette, di tutto un po'. Quindi è un'invasione pacifica, bella, tanti ragazzi, tanti adulti volenterosi e volontari e tante persone che vengono per trovare qualcosa di bello da poter portare a casa. Un mercatino dell'usato ovviamente deve poter trovare tante particolarità, ovviamente alla base del mercatino c'è la donazione volontaria da parte dei cittadini, degli oggetti che poi vengono messi in vendita. E qui chiedo a te, Sara, perché ovviamente sono tanti volontari coinvolti, oltre 100 come diceva appunto Tommaso, che in questi giorni, già oggi, hanno cominciato la raccolta casa per casa, proprio per prendere ciò che poi verrà messo in vendita, anche perché c'era stata una pre-campagna informativa per avvisare ovviamente le persone. Sì, in tutta la giornata di oggi abbiamo raccolto la zona di Prato Est, domani raccoglieremo la zona di Prato Nord e Prato Ovest e Montemurlo. Grazie a voi. E invece sabato faremo tutta la parte di Prato Sud, compresi le province di Poggio Accaiano e Carmignano. E quindi questo ovviamente per cercare di raccogliere il più materiale possibile. Dicevamo quinta edizione, quindi un format già collaudato, però questo non vuol dire che non ci siano delle novità, perché quest'anno sono due almeno le novità in programma. Sì, fermo restando che è sempre tutta una novità, perché sappiamo che le casse sono piene di tante cose, quindi arrivano sempre oggetti interessantissimi, storici, particolari. Quest'anno abbiamo deciso di puntare molto sulle biciclette, perché abbiamo visto che comunque Prato è una città di molte cilabili, di bici, per cui abbiamo raccolto moltissime biciclette e sono state sistemate all'Istituto Professionale Marconi dai ragazzi e una parte di queste biciclette verranno messe in vendita proprio e sono messe in vendita lì a Riciclao. Sono più di 130 biciclette a disposizione di ogni genere e tipo, quindi da donna, da uomo, BMX, da Corsa, Grazielle, già sistemate e pronte per essere utilizzate. L'altra novità interessante è un bar a Rabattao, il bar di Riciclao, che è proprio fatto in modo molto particolare, perché uno va lì, può consumare, bere qualcosina, un caffè, ma può portarsi via la tazzina che ha utilizzato, può comprare il tavolino o la sedia sulla quale è seduto, ogni pezzo è un pezzo e appartiene a un'epoca dagli anni 50 agli anni 70, quindi un bar di modernariato, vintage, molto grazioso e con una bellissima atmosfera. E quindi davvero una simpatica novità, anche perché davvero a Riciclao si trovano tante piccole particolarità, come appunto potete vedere dalle immagini che si rifiniscono chiaramente all'edizione degli anni scorsi, come diceva Tommaso, dalle biciclette fino ovviamente ai dischi in vinile piuttosto che i fumetti, appunto come vediamo adesso. Sara, dicevamo appunto dell'impegno dei volontari, tu hai già altre esperienze di Riciclao, ti chiedo qual è appunto quello che poi si prova durante questa esperienza, perché ricordiamo si spalma su più giorni e coinvolge tanti ragazzi che vivono tutto il giorno a contatto fra di loro. Sicuramente c'è da dire che è un'occasione bellissima per tutta la città di Prato, riuscire a coinvolgere in un mercatino così grande un po' tutta la città, riuscire a coinvolgere le persone nella raccolta, perché come ho detto prima tutto si basa sulla generosità delle persone che ci regalano e per noi ragazzi è proprio provare a regalare un po' di tempo libero. Noi, insomma, ancora ne abbiamo tanto, sfruttarlo in questo modo durante le vacanze di Pasqua, anche ogni anno provando a coinvolgere sempre più ragazzi delle scuole, sempre tanti ragazzi da tutta Italia, anche stamattina siamo andati proprio a proporre questo al Buzzi in due classi, e quindi ecco proprio il bello di poter dire in modo così semplice tramite un mercatino usiamo il tempo libero per aiutare gli altri. Questa è anche un'altra particolarità, appunto ragazzi che magari qualcuno ha già finito la scuola, però ragazzi che ancora sono in età da scuola, che impegnano le proprie vacanze pasquali per questo fine davvero importante. Magari non l'abbiamo ancora detto, Qual è appunto la finalità di Riciclao? La finalità è chiaramente benefica, cosa vuol dire? Che tutti i proventi, tutti i ricavi dal mercatino dell'usato vanno e sono destinati alle missioni dell'operazione Mato Grosso. Le missioni dell'operazione Mato Grosso sono più di 100 in vari paesi dell'America Latina, sono missioni in cui lavorano i nostri volontari, persone sono partite dall'Italia gratuitamente per andare ad aiutare chi ha più bisogno. Tra queste persone c'è anche una famiglia di Tavola, Alessio Petracchi e sua moglie, ogni figli, c'è anche Don Armando Zappa e tutti a Prato, insomma, conoscono per i tanti anni di esperienza in missione e ci sono tanti ragazzi che continuamente dall'Italia partono e vanno a fare un'esperienza di sei mesi, o un anno, o due anni. Lì si lavora per aiutare le persone che vivono nei luoghi più sperduti, che siano le baraccopoli di Cimbote, che siano le Ande, che siano la foresta amazzonica, luoghi dove vivono ancora in un modo che per noi è inconcepibile, villaggi lontani sperduti e quindi lì facciamo scuole, cooperative di lavoro, ospedali, ecco, tutte queste iniziative che coinvolgono migliaia di persone vengono portate avanti dal lavoro dei volontari. La cosa bella che ci tengo a sottolineare è sempre che tutte le spese, anche di questi giorni, durante il campo di riciclao, sono coperte da una parte dall'autotassa dei ragazzi. Ognuno di noi mette qualcosa per coprire le spese, tutte le spese. E dall'altra, grazie a vari benefattori, aziende, persone privati che regalano ognuno qualcosa. Quindi ci sono aziende che hanno regalato da mangiare, mi viene in mente il fogaccio e ci regala sempre il pane, la mucchia e ci regala sempre il latte. Tante aziende ci regalano e ci permettono di poter mandare tutto interamente ricavato per i poveri. Altro lavoro importante, peraltro, diciamolo, svolge il Gramsci Keynes perché fa un po' la base logistica. Sì, Gramsci Keynes ormai da 5 anni ci ospita e questo non è poco perché per una scuola superiore nei pochi giorni che ci sono tra le lezioni dà la disponibilità di tutti gli ambienti con grande generosità e non soltanto l'ospitalità ma ci permette anche di fare dei piccoli lavoretti di manutenzione alla scuola e la scuola poi dà un contributo all'operazione Mato Grosso e viene poi utilizzato sempre per le finalità di beneficenza. Quindi ecco, ci ospita e in più fa fare dei piccoli lavoretti soprattutto i tinteggiature delle aule e ci dà poi un contributo. Ecco, per noi è veramente moltissimo. È davvero molto importante. Peraltro, Tommaso, il fatto che il mercatino sia cresciuto negli anni lo testimonia quello che poi viene raccolto e chiaramente nella prima edizione si è partiti con una cifra. L'anno scorso sono stati raccolti 45 mila euro che sono veramente tanti e sono andati tutti completamente all'operazione Mato Grosso. L'obiettivo qual è quest'anno? Certo, per noi l'obiettivo è riuscire sempre ad alzare un po' l'asticella. Quindi superare 50 mila euro. Questo obiettivo è grandioso perché vuol dire c'è molto lavoro dietro. Da vari mesi che noi ci adoperiamo per organizzare un evento del genere. Soprattutto per poter avere tanto materiale da poter mettere in vendita. I ragazzi si danno da fare da più di un mese per volantinare, pubblicizzare l'evento, organizzare tutto. Quindi per noi riuscire ogni anno a migliorarsi vuol dire che ciò che stiamo facendo riscuoti è anche successo non solo perché entusiasma i ragazzi ma perché è compreso, è capito dalle persone e sanno che quell'oggettino lì, quella bicicletta non ha solo un valore in sé ma un doppio valore. Quei soldi che hai dato hanno una finalità che è veramente importante. Sara, siete tanti davvero volontari ti chiedo però una cosa se tu dovessi consigliare a un ragazzo a casa di fare questa esperienza cosa gli diresti? Magari per l'anno prossimo perché quest'anno ormai penso siate a posto no? No, no, no noi sempre bisogna sempre anche per quest'anno dai ma io sicuramente li consiglierei di venire anche ecco per me proprio la cosa bella è riuscire a dire ai ragazzi non importano le giornate non importa stare lì tre giorni ho due ore passo dal mercatino provo a curiosare provo a dare una mano ecco questa è proprio la cosa più bella secondo me da poter dire e anche un po' ecco che rispecchia lo spirito dell'operazione Maso Grosso ho due ore di tempo impiego quelle ho due giorni regalo quelli una bella testimonianza ricordiamo allora gli orari a questo punto no? perché almeno chi vuole venire sa come fare allora chi vuole venire può essere lì alle 8 e mezzo la mattina davanti all'officina giovani perché ogni mattina ci stiamo organizzando con chi c'è e dividersi nei vari compiti l'apertura è alle 9 del mercatino quindi aperto al pubblico dalle 9 a mezzogiorno e 30 poi dalle 15 alle 18 e 30 la domenica di Pasqua è aperto solo il pomeriggio quindi dalle 15 fino alle 20 la Pasquetta è aperto tutto il giorno 9 a mezzogiorno e 30 15 19 e beh quindi magari anche un modo diverso per passare la Pasquetta perché no e negli anni scorsi in effetti ha riscosso davvero grande successo l'ultima cosa a questo punto prima di concludere l'invito magari visto che siamo anche in un periodo in cui bisogna donare le cose che poi vengono messe in venita al mercatino e a chi ha delle cose a casa appunto e magari non lo sa più comunque possono sono ovviamente sempre ancora funzionanti perché questo bisogna bisogna dirlo non è che ci si può liberare della spazzatura ma cose ancora funzionanti questo anche per i vestiti devono essere in condizioni dignitose perché altrimenti meglio di no fatelo quando passeranno i volontari da casa in questi giorni a raccoglierlo cercate ognuno di noi può cercare di dare qualcosa appunto perché avete capito che il fine è assolutamente benefico io ringrazio davvero Tommaso Tasselli e Sara Breschi di averci fatto compagnia rinnovo ancora a casa l'invito quindi a visitare in questi giorni il riciclao ringrazio voi e ringrazio voi tutti a casa e vi ricordo che intorno alle 9 torna martedì perché domani c'è in onda la via Crucis quindi grazie dell'attenzione buon proseguimento di serata a questo punto hanno profitto anche per augurare buona Pasqua grazie altrettanto